buongiorno buon mercoledì allora volevo dire a tutti quelli che si sentono furbi no sentite furbi dietro i vostri profili fake e venite qua a spiare ma non per conto vostro magari veniste perché voi avete curiosità no lo fate per conto altrui allora io vi informo che chi appoggia certi personaggi che si dichiarano apertamente massoni secondo me non c'è ragione che voi chiamate questi personaggi furboni che si autodefiniscono massoni poi bisognerebbe anche vedere se lo sono perché saranno proprio gli ultimi della fila poi sembra che adesso va di moda che tutti sono massoni ma in realtà vorrei farvi qualche esamino io e poi vedo se siete veramente massoni eh o se siete andati solo lì per una questione economica al di là di questo al di là di questo se seguite loro non posso non potete seguire me ammirate loro bravi belli come parli bene tu segui loro ma togli il segui da me noi siamo in due direzioni opposte io credo al dio che non si nasconde credo al dio che si manifesta credo al dio che lavora la luce del sole non di nascosto e poi vi ricordo che l'articolo 18 della costituzione dice che sono vietate le associazioni segrete segrete andatevelo a rivedere l'articolo 18 ma non mi immaginavo che anche tra persone che sembrano delle semplici donnine innocenti in realtà siete così sciocche che vi fate manipolare da degli uomini stupidi come ci sono anche gli uomini che si fanno manipolare dalle donne stupide perché sia gli uomini che le donne non hanno capito che l'uomo e la donna non deve guidare uno l'altro ma devono viaggiare di pali passo ma si vede che voi come delle bestioline che voi siete ancora bestioline avete bisogno del pastore che vi porti a pascolare ecco, andate a pascolare ma lontano da me vi auguro ogni bene ma vi auguro solo una cosa 5 minuti di intelligenza che sembrano pochi ma sono tantissimi per capire quanto siete miserabili, infami e bugiardi e quanto tutto si basi sulla menzogna e sulla manipolazione perché se uno è dalla parte della ragione non deve fare giochi di prestigio la verità è verità e le sue mani sono pulite e la sua lingua è pulita il suo cuore è pulito avete capito? e buona giornata grazie 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 Grazie.